Montano le polemiche sulla bolletta dell'acqua in quanto rispetto all'anno precedente il rincaro è del 25%. Intanto la Cassazione ha stabilito che i comuni non possono chiedere il pagamento se prima non c'è il depuratore. Innanzitutto il rincaro non è del 25% ma siamo intorno a poco meno del 20%. In ogni caso è sempre un aumento che purtroppo va a ricadere su quelle che sono le tasche dei nostri cari concittadini. È chiaro che la legge, la normativa nazionale che ci dice ormai che tutto quello che è costo e quindi servizi devono avere un pagamento da parte dei cittadini che varia al 100%. Avola era fermo all'80% e ora siamo stati costretti quindi ad adeguare questa tariffa. In ogni caso è chiaro che è bene ricordare anche che io fin dal mio insediamento mi sono battuto per quella che è l'acqua pubblica e quindi fare in modo che i costi per l'acqua per i miei concittadini possano essere adeguati. Infatti io sono uno dei pochi sindaci che sono stato segnalato alla Procura della Repubblica proprio perché non ho consegnato gli impianti alla SAI 8 che significa poi in questo caso in termini proprio economici per i cittadini bollette più salate come vediamo negli altri comuni. È chiaro che quindi da parte mia sull'acqua è stato fatto tutto il possibile e sto continuando ancora su questa battaglia perché tra l'altro c'è ancora un contenzioso aperto, ho messo già due legali da parte nostra come comune che stanno difendendo le ragioni di un territorio, dei cittadini che mi hanno votato per fare in modo che questo servizio possa essere sempre più adeguato. Sul discorso anche del depuratore, ovviamente è chiaro che noi negli anni precedenti si è pagata una parte nella bolletta che afferiva al costo del depuratore, al funzionamento. Posso dire anche in questo caso che io ho subito cercato e fatto in modo di ritrovare quelle somme che erano state versate dai nostri concittadini negli anni e il primo anno del depuratore, quindi l'avvio del depuratore che noi già, come sapete, abbiamo ormai messo a bando quindi significa ormai intorno al mese di maggio attendiamo soltanto la verifica della partecipazione di società per gestire questo depuratore, partirà con fondi che sono stati negli anni passati versati dai cittadini quindi non ci sarà nessun aggravio, cosa che potrà avvenire negli anni successivi ma in questo caso noi abbiamo deciso di utilizzare i fondi che già erano stati utilizzati negli anni passati e questa è stata anche una scelta, non ritrovare delle somme che nel bilancio che voi sapete tutti benissimo in questo momento quando signano le ristrettezze, le difficoltà economiche ma era necessario anche un atto di giustizia sociale quindi da parte nostra. Quindi signor Sindaco facendo il paragone con altri comuni queste bollette alla fine sono poco più, cioè leggermente salate, ecco cosa possiamo dire? No ma vedete se facciamo il paragone con gli altri comuni Avola diciamo che in questo momento anzi rappresenta un eldorato dal punto di vista delle bollette perché vedete a Avola ancora si paga forfettariamente 250 euro tutti indistintamente anche lì c'è bisogno di fare un discorso di equità sociale quindi nel tempo trovare delle soluzioni che possono far pagare chi più consuma e meno coloro che consumano e quindi fanno meno dispendio dell'acqua perché sappiamo benissimo che c'è chi ha la villa e quindi usa più acqua e quindi chi invece ha una casa che magari utilizza soltanto per il periodo estivo perché viene in città che è chiaro che quindi deve avere anche un esborso minore ma questo sarà obiettivo che grazie anche speriamo a una legge che possa essere riformata e cambiata che non facciamo noi sindaci ma che fanno coloro che andremo noi a votare il 24 e il 25 febbraio perché è chiaro ed è importante far notare anche questo i sindaci cerchiamo di applicare la legge sulla base di quello che viene conormato da un governo nazionale su questo noi ci muoviamo io posso dire che tutte le agevolazioni possibili e quello che era possibile fare sull'acqua l'ho applicata e anche le battaglie che sto conducendo sono proprio in questo senso quindi vorremmo ricordare anche ai nostri oppositori che anche sull'acqua in questo caso stanno facendo una battaglia che hanno fatto in campagna elettorale perché dicevano che noi dovevamo consegnare l'acqua ai privati non abbiamo fatto questo stiamo continuando invece a battagliarci e a battagliare per quelli che sono i diritti dei nostri cittadini e quindi anche in questo senso cerchiamo di essere più costruttivi Un altro caso che abbiamo letto oggi sui giornali è quello di una vedova di 55 anni che ha a carico 4 figlie praticamente la precedente amministrazione l'amministrazione Barbagallo aveva stabilito un rimborso di 250 euro per le famiglie disagiate ma da maggio questa signora non ha ricevuto alcun soldo e nei giorni scorsi si è recata diciamo al comune e ha scoperto che non c'è neanche il mandato di pagamento ed è quindi costretta a ricevere solo l'aiuto della Caritas Anche in questo caso vorrei dire che noi abbiamo trovato un bilancio disastrato ma la cosa principale che abbiamo fatto è non tagliare assolutamente quello che erano i fondi previsti per i servizi sociali e questo si possono vedere numeri alla mano guardando il bilancio dell'anno precedente con il bilancio 2012 è stata una scelta che noi abbiamo fatto purtroppo è chiaro che pur bandenendo e quindi non tagliando le risorse per i servizi sociali aumentano invece le difficoltà economiche per le famiglie è un momento critico, lo sappiamo tutti in questo momento la disoccupazione che cresce, la gente che non riesce ad arrivare a fine mese ed è chiaro che in questo momento quindi c'è bisogno di più risorse noi abbiamo mantenuto e stiamo facendo tutto il possibile in questo caso un altro problema del comune è anche quello della liquidità quindi anche se noi abbiamo stanziato questi fondi il problema sta proprio nell'erogare quella che è la liquidità quindi dare materialmente poi i denari voi sapete benissimo che in questo momento i dipendenti comunali ancora non hanno percepito il mese di gennaio proprio perché manca la liquidità è un problema che io mi sono messo già subito all'opera abbiamo avviato le procedure per il riequilibrio e il risanamento finanziario quindi stiamo facendo tutto il possibile è chiaro che noi tutto quello che riguarda servizi sociali e aiuti anche alla Caritas abbiamo fatto un'operazione diversa dagli anni precedenti abbiamo coinvolto le Caritas, ci stiamo incontrando per fare un lavoro di sinergia insieme alle chiese per fare in modo anche che possono essere aiutate e coadiuvate queste famiglie che in questo momento hanno bisogno e quindi tutto ciò che è possibile lo faremo ma dobbiamo essere consapevoli che non è in questo caso facendo una guerra all'amministrazione o al sindaco che si possono risolvere problemi che invece sono problemi enormi e che riguardano come noi leggiamo tutti i giornali nel giornale l'intero Italia e l'intero sistema Intanto signor sindaco la dichiarazione del Partito Democratico che ha detto è davvero triste fuggire a un confronto pubblico Io penso che sia invece davvero triste tutti i giorni ricercare qualcosa che non c'è e in questo caso ecco si fanno delle illazioni che sta facendo ecco il Partito Democratico su un iter, su un lavoro che è stato portato avanti da parte dei nostri uffici per fare in modo che si realizzasse un'opera e quindi in un certo senso fare in modo che si abbiano dei servizi per la città maggiori perché noi in questo caso andiamo a risparmiare Vedete io dicevo prima l'amministrazione dà indirizzo politico noi abbiamo deciso di fare il fotovoltaico abbiamo dato mandato ai nostri uffici di mettere in campo tutti gli atti per nei tempi arrivare a questo preciso obiettivo ed è stato realizzato se ci sono ecco da parte del PD delle richieste particolari ma vedete gli atti sono pubblici si possono ecco gli nostri uffici sono aperti quindi ogni cosa può essere ecco visionata tra l'altro anche devo dire che la ditta che ha presentato l'altra richiesta ha già preso atto di tutti i documenti e quindi sta vagliando perché dei interessi sia dei cittadini ma sia dell'amministrazione e quindi della mia amministrazione che le cose vengono ecco realizzate a perfetta regola d'arte che vengono realizzate rispettando quelle che siano le norme è chiaro che però è necessario anche in questo senso far comprendere che l'amministrazione e la politica che io rappresento ha dato un indirizzo chiaro che è quello di fare il fotovoltaico che da più di vent'anni ecco non è mai se ne è parlato sempre e mai nessuno ha realizzato questi sono i fatti però signor sindaco se vi foste presentati al dibattito magari ecco non sarebbe uscito il discorso di fuggire alle responsabilità ma veda questo noi non fuggiamo a nessuna responsabilità semmai il problema è noi non facciamo un discorso di partito quindi non partecipiamo soprattutto in campagna elettorale ad un'assemblea di partito e quindi per prestare il fianco a un'assemblea che tra l'altro partecipano soltanto gli iscritti l'interesse semmai invece noi siamo pronti ad qualsiasi confronto pubblico con la città con coloro ecco che vogliono e sono interessati ma questo lo faccio sempre l'ho fatto e continuo a farlo e quindi non abbiamo nessuna difficoltà da parte nostra ecco a confrontarci anzi ma che ben venga il confronto l'abbiamo fatto in consiglio comunale continueremo a farlo è chiaro che però che questo debba essere fatto con lo spirito costruttivo e del fare perché noi intendiamo fare se gli altri invece pensano di dover distruggere e ricercare anche ciò che non c'è allora a quel punto noi non ci stiamo grazie grazie grazie